Salve ragazzi sono qui, sono io Delta28, siamo su Fratout4, ho fatto una grande sciocchezza e cavolata, ve lo spiego subito, e continua Coppa, che è successo? Io ho fatto una sciocchezza veramente assurda, io per sbaglio, vedete? Ecco qua, sono alla seconda gara della categoria Classic, perché? Ve lo spiego subito. Quando ho comprato la scheda nuova video, la 1050, ho voluto testarla, io come un cretino ho fatto la prima gara della Corsa Classic, comunque l'ho completata pure, però ho detto dai continuiamo a fare, voglio provarla bene, e ho iniziato con la seconda, poi ho detto cacchio ma io sto facendo un gameplay e quindi devo stoppare, dovevo registrare, mi sono scordato, ma poi perché stava tutta a test, quindi mi sono scordato, e quindi adesso sono al turno 2 della seconda Corsa, mi dispiace tanto ragazzi, ma è stato... Vabbè, non è successo niente alla fine, quindi tutto apposso, anche che questa qui precedenza, in modo Class Cup, questa qua, il secondo turno, il primo turno, è stata una cosa fenomenale, sono arrivato primo, vabbè, lasciamo stare, ma dobbiamo fare qua, siete pronti ragazzi? Dai, giochiamo, e stavolta registro, anzi vedete la qualità migliorata del gioco, anzi a sto punto approfittiamo di vederla, in HD, perché io ho 745 e sono a 1050, a bestia, e non vedo l'ora di giocare, quindi... Abbiamo dato la carriera, poco sbloccare altre coppie, vabbè, sì sì, che se ne frega, io voglio giocare, voglio morire, bene, questo è il mio motto ragazzi, sono molto contento, perché la prima volta che ho montato io una scheda video e una RAM e cose, sono anche soddisfatto, perché ero tutto eccitato, la volta scoperto che non ho fatto sta cosa, sempre un po' di aiuto poche mio amico, e ho testato il gioco e faccio la paura, dopo farò anche i giochi su The Isol, aggiornamento grafico, migliorato anche quello, ha migliorato tutto, ha migliorato, infatti ho fatto gameplay di Dawn of War, uno direbbe, beh, ma quello è il 2, sì, vedi tutti i dettagli, i modelli che prima non c'era, quel 745, ok, è un gioco del 2011, però non c'era tutti questi dettagli con quell'altra scheda grafica, questo ha praticamente portato al massimo tutte le schede grafiche che aveva, ora vediamo un po' in HD, quindi praticamente chi vuole vedere i miei gameplay sicuramente arriverà a una... se scatta un poco ragazzi, vi spiego subito il perché, sto praticamente facendo degli aggiornamenti, no aggiornamenti, scusa, sto caricando video e file, vabbè, con 16 giga di RAM, madonna cosa ho visto! mamma mia, mamma mia, togliti, ecco, quindi se scatta è perché ho troppe cose che sto, sto oltre a giocare, sto anche caricando, quindi tutto a posto, poi sto, io uso fraps per registrare, quindi capite a me quanto, quanta memoria occupa in teoria, sti cose, anche che molti subito in realtà, eh ma non lo scaricare con fraps si giochi, eh, lo so, non lo scaricare, e poi ne devo trovare uno decente, ok, vabbè, ho distrutto una casa, non c'è nessuno, quindi tutto a posto, infatti mi sistemai perché questa mappa è un po' pesante, fastidiosa perché veramente non la comprendi io subito, madonna come ho schivato, cosa ho fatto? Non ho capito che ho fatto, no, 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 vabbè, sì, ho distrutto tutto, no, 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 l'avevo schivato per poco, vabbè, sono settimo sul primo giro, dai, purtroppo se mi scatta, ve l'ho detto già prima il perché, quindi tutto normale, quindi i download ci vorranno purtroppo un po' di tempo, però chi se ne frega, posso sopportarlo, intanto voglio provare ad arrivare prima, un po' di tempo, vabbè, 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 vabbè cambi va a quel paese in questo gioco praticamente dicevo si sporcano io non ho notato forse prima non si notava che non era all'epico ecco io sono proprio alla qualità epica con questa scheda video prima ero a solo auto quindi qua fa bene tutti i dettagli non so della del modello della macchina proprio con effetti di luce ma è proprio una questione del tipo oddio si vede anche la sabbia levati dai coglioni tizio che sono con il trattore andiamo a comandare in dangenziale ah ho fatto una gassiata una grande gassiata no sono contento perché gioco comunque con un gioco con una scheda video buona ottimo e poi avete visto fa un po di scatto ma perché sto scaricando file se no quest'ora era molto meglio e vi ho detto io sto scaricando per per farvi capire un gioco un video ai 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 dolore molto dolore aia ai tu da dove sei uscito via ah è esploso una macchina vabbè abbiamo per esempio ecco perché non sono ancora ultimo come faccio schifo tu ma sparici le zino no 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 vabbè ah mo mi devi chiamare ma arrivo ehm ero qua quindi non voglio sbattere eh si ci ho sbattuto sparisci tu devo raggiungere piglio qualcuno piglio qualcuno dimmi che piglia qualcuno non ho pigliato a nessuno si ho pigliato a te madonna che botta che gli ho dato sparisci le zino la cosa buona di questa macchina che parte che sto morendo quindi una botte 3 4 botti muoio però posso dire che ha una resistenza spaventoso devo dire non è velocissima però arrivo subito facilmente al primo posto e questo è ottimo però non devo più sbagliare ricordate che io uso ancora la tastiera e sto usando la tastiera non il joystick sì perché questo maletto windows 10 del casso mi pre mi costringe a comprare un joystick della xbox cosa che io non mi trovo a usarla essendo che io sono abituato a usare joystick da playstation quindi bello grazie vi odio tutti quindi ecco e comprare una adesso onestamente ve lo dico con tutto il cuore un joystick solo perché per giocare e spende quasi 30 20 euro mannaccia a te a questo guarda mi hanno superato tutti no sono terzo però non mi interessa perché ero secondo però voglio arrivare primo ero in bella posizione quindi al devolo tutti quindi assolutamente no vabbè vi supererò nel prossimo percorso no per il prossimo giro in un prossimo tratto anche che non ho proprio non ho proprio niente dai quindi devo solo accelerare e farcela quindi se l'ho fatta primo vinto fatto ma che importa la piada in pieno anche io ho presa in pieno ah dai ho fatto qualcosa buttoso sono ancora primo quanti punteggi 24 si mada fucker sono un grande ultimo percorso e vediamo di fare un gameplay veloce perché non sto caricando video da un sacco in euro che ho avuto problemi di connessione quindi voglio caricare questo e un altro video su youtube così domani lo potete vedere e assistere anzi pubblicherò forse bensì mentre video stasera se ce la faccio cioè per domani se voglio fare una partita anche a Deiso quindi giusto per farvi degli aggiornamenti di gioco soprattutto perché hanno messo un nuovo modello di dinosauro e ve lo voglio far vedere ovvero l'alberto sauro cioè non perdo qua perché io comunque li sono fissato a avere l'oro quindi voglio arrivare a... orando quel punteggio che io voglio quindi posso arrivare pure il secondo terzo però io sono un po' un tipo del tipo nooo devo arrivare primo ah questo è tosto qua fa vedere che piove quindi non mi ricordo adesso se pioveva veramente o no in questa mappa oddio la conosco purtroppo anche no non la conosco sta mappa è nuova non mi ricordo no non la conosco sparisci l'età stiamo facendo il percorso al contrario agli qualcun altro avevo bene l'aspetto non ero pigliati l'ho fatto c'è ne ha fatto mai lui però ho capito la mappa qual è però sai qual è questa è un attaversione un altro percorso non è la stessa che conosco io questo al contrario è al contrario si l'ho riconosciuto al contrario sparisci c'è un po' sparisce va bene che è successo qualcuno oddio che curva 1 bellissimo non so dovuto manco fare marcia indietro che curva bruttissima c'è curva proprio nel senso la parola curva in generale lol lo pigliati in pieno lago quando pigli questi bilosi sono fantastici perché no 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 scena 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 assolutamente l'ho presa male cioè ovviamente andavo in mezzo sono andato non è che prendevo a destra a sinistra in mezzo direttamente aia qua ho scattato non ho scattato ma ma ha fatto il picco diciamo bug perché da un bug c'è ma scattato perché sto caricando comunque quei file si sto caricando tutto sto convertendo 3 video quindi ci vorrà siano un bel po' di tempo poi sto salvando invece aia aia tutte e due cioè manco in un lato tutti e due i lati sto come beh beh cosa ho appena visto vabbè ripeto qua non c'è fisica comunque a volte non c'è proprio fisica vediamo se lo piglio lo piglio bella io mi diverto a sfondarli perché ricordate questo è mezzo derby quindi qua è qua è no 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 qua è tutto lecito qua sembra quei posti canadesi con quale fisica me l'hai fatto vedere a quell'altro ho sfondato comunque la maggior parte sono tutti quelli che ho dato i peggiori colpi ma che vuoi fare tu lezzino no 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 mi ha fregato si mi ha toccato un pochettino sul fondo della carovana come si dice e mi ha riuscito a buttarmi fuori bastardo bastardo vabbè sono stato pure bastardo prima eh quindi tutto a posto lo giustifico perché si è vendicato però non significa un cazzo perché io mi incazzo aia botta dolore colpo colore eh ma che è sta cosa oddio ve l'ho schivato per un po' l'ero si no perché tu schivi io schivo per un pelo le cose non so che cacchio hai fatto ragazzo però dai andiamo si perché mo devo arrivare ce la faccio ce la faccio ce la faccio perfetto sono tutte e tre là tutte e due sparisci sparite tutte e due sei atto sono a pezzi sono rimasto come una merda dai però sono secondo guarda e conferma chi se ne frega era giusto per fare un gameplay però mamma mia sono rimasto una merda perché sono fatto nientato per così poco perché poi se mi sono ammazzato da solo faccio schifo però ho fatto l'argento quindi dai anche che io non l'accetto si ok qua sbloccato e cosa a tempo non lo fare mai vedete oro oro argento oro che tristezza no vabbè io volevo giusto fare qualche gameplay così adesso sono a posto no era giusto per far vedere il gioco che è successo ah ha finito la carica sarebbe senso sto rumore perché ha finito il dati di salvare infatti mo devo convertire anche questo video e il prossimo così posso trasferire su youtube stasera e li carico così domani li carico così domani sono belli operativi faccio così dai vi lascio qui del transi vediamo se posso o officino modificare modificare a voglio fare una mani ok no vabbè dai personalizzazione in corso La polizia? No, vabbè, lo tengo ancora a questo, dai. Vabbè, ma chi se me frega, dai. Alla prossima volta, ragazzi, faremo un gameplay del prossimo accorsiere, dai. Qui dal 38, passo.